Benvenuti su ClaudioMasci.com Nel video precedente abbiamo visto come impostare il tema scuro su YouTube da smartphone, quindi o da Android o da iPhone In questo video andremo a vedere come impostarlo invece da browser, quindi da PC o da Mac E vedremo sia come impostarlo con un account collegato, sia come impostarlo senza avere un account collegato Se abbiamo un account collegato ci basterà cliccare sull'avatar del nostro account, quindi ci colleghiamo a YouTube Clicchiamo sull'avatar e scorriamo e clicchiamo su tema scuro Confermiamo e avremo il tema scuro su YouTube, quindi su tutte le pagine di YouTube Ok Se invece ci colleghiamo a YouTube senza avere un account collegato, quindi vedremo il pulsante accedi Possiamo comunque impostare il tema scuro, quindi clicchiamo sui tre puntini, impostazioni, tema scuro E lo attiviamo Quindi comunque sia con un account collegato sia senza un account possiamo scegliere di impostare il tema scuro su YouTube Questo è tutto, vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo Grazie mille